Salve ragazzi, sono Carlo Napodano. Oggi rispondo ad un mio caro fan che mi chiede Carlo, come faccio ad accorgermi se la mia partner simula l'orgasmo? Ho il timore che da un po' stia fingendo. Mi puoi aiutare? Beh, caro mio, su questo argomento mi trovi molto ferrato in quanto è stata sempre mia premura preoccuparmi della mia partner e appunto chiederle e capire se avesse raggiunto l'orgasmo o se stesse godendo nel contempo. Partiamo con il dire che la miglior soluzione, a mio avviso, è quella di parlare con la propria partner, chiederle appunto se ha raggiunto l'orgasmo o meno. Se invece non riuscite ad accorgere di questa cosa e la domanda può creare imbarazzo, ci sono dei piccoli escamotage per capire se la stessa sta fingendo oppure no. Uno dei primi punti a cui far caso è la velocità. Una donna che viene velocemente, a meno che non ci sia un rapporto che va avanti da tempo, che ci sia un grande feeling mentale, a meno che appunto non ci sia quella voglia, quel desiderio che spinge la stessa a stare molto eccitata e quindi a venire subito, la durata è molto importante perché una donna che viene subito oppure addirittura che può raggiungere l'orgasmo insieme a voi nel contempo in cui voi lo raggiungete, beh, è alquanto impossibile, è un po' difficile. Quindi presumibilmente starà fingendo o avrà finto appunto di aver raggiunto l'orgasmo. Il secondo punto è notare le contrazioni della vagina perché così come il nostro pene anche la vagina ha delle contrazioni. Quindi nel momento in cui penetrate o agite se non vedete appunto questa contrazione o questo movimento, beh, cari miei, mi dispiace, ma starà fingendo. Poi ci sono le urla. Una donna che durante l'orgasmo o che durante il sesso urla troppo è teatrale e quindi è sicuramente finzione. Se è così, fatevi una domanda. Dunque ragazzi, urla del genere le potrete trovare solo nei film perché è finzione e loro hanno un copione da seguire. Un altro punto molto importante che vi può far capire se la sessa ha raggiunto l'orgasmo o ha simulato di aver raggiunto l'orgasmo è appunto il linguaggio del corpo. Se la sessa appunto si scalda, arrossisce oppure la vedete stanca e vogliosa di richiedervi quei cinque minuti di pausa allora vorrà dire che avrà raggiunto l'orgasmo. In caso contrario, se appunto vedrete che è ancora attiva, disinvolta come appunto se il fatto non fosse il suo, cari miei, vorrà dire che appunto ho finito l'orgasmo. Dunque, se riscontrate alcuni di questi problemi e vi rendete conto che la vostra partner abitualmente tende a fingere l'orgasmo vi consiglio di parlarle. Però mi raccomando andateci piano perché è un argomento molto delicato e potrebbe creare disagio alla vostra partner. Un altro consiglio che mi sento di darvi proprio per evitare che anche essa possa provare a fingere l'orgasmo è quella di imparare a farla squirtare. Il come l'ho spiegato in uno dei miei video vi metto il link qui in basso quindi se volete dare un'occhiata e capire come farla squirtare potete guardare il link in descrizione. Dunque, vi dicevo uno dei segreti è quello di farla squirtare perché lo squirting non è una pratica che non può essere simulata. Quindi, o c'è o non c'è, c'è o squirta o non squirta. se imparate appunto a praticare quest'atto sarete sempre sicuri che la vostra partner era goduta e che resterà sempre soddisfatta del sesso. Mio caro fan spero che trarrai beneficio appunto da questo video anzi che ne trarrete tutti beneficio. Per oggi è tutto io vi auguro un buon proseguo vi invito sempre a mettere un like alla mia pagina e ad iscrivere al mio canale e non vi dimenticate di cliccare sulla campanellina così sarete sempre aggiornati su tutti gli argomenti riguardanti il mondo del sesso e dei sex toys. Noi ci rivediamo in uno dei miei prossimi video perché come dico sempre il sesso è ovunque. Ciao!